La città di Teramo subisce un nuovo colpo politico e istituzionale. La presidenza del Comitato Ristretto dei Sindaci della ASDRE, tradizionalmente affidata al sindaco del capoluogo, è passata al sindaco di Civitella del Tronto, Cristina Di Pietro. La decisione, presa con una votazione interna 3 a 2, ha visto Di Pietro prevalere sull'uscente Gian Guido D'Alberto, sindaco di Teramo, in un clima di alta tensione. Il centrodestra ha giustificato il cambio con l'esigenza di maggiore operatività, accusando D'Alberto di scarsa gestione del Comitato. La neopresidente, subito dopo la nomina, ha dichiarato di essere pronta a lavorare per il bene di tutta la provincia. Io penso che la sanità sia un tema fondamentale e proprio su questo campo non possono esserci contrapposizioni. Mi spiace che oggi si sia arrivata ad una elezione così, diciamo, 3 a 2, non ci sia stata l'unanimità. Ma credetemi, io dimostrerò sul campo la mia volontà di fare bene, ma non a favore di una parte, ma a favore della provincia di Ramana. La scelta di affidare la presidenza a un comune che non ospita presidi ospedalieri ha scatenato polemiche. D'Alberto ha denunciato una forzatura politica da parte del centrodestra regionale, mirata a marginalizzare il capoluogo in una fase cruciale per la sanità provinciale, come la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo. Una scelta politica contro il capoluogo, contro Teramo, finalizzata proprio a indebolire il ruolo della città capoluogo, non ovviamente del sindaco che esce anche più forte da queste operazioni, che ovviamente sono operazioni totalmente inaccettabili. In un momento, tra l'altro, dove si sta realizzando l'investimento più importante per la sanità teramana relativa al nuovo ospedale, evidentemente da un lato c'è qualcuno che ha paura di questo intervento e dall'altro si denota anche questa difficoltà. Da parte della regione Abruzzo, proprio ieri è emersa la notizia del ritardo nella predisposizione del progetto. Una spaccatura all'interno del comitato che non si ricorda da anni, però prendiamo atto di questo modo di fare, che non è il primo, non è la prima istituzione che viene piegata a logiche politiche, ma di certo non consentiremo l'indebolimento della città capoluogo e soprattutto questa prosecuzione nella gestione della sanità regionale e teramana totalmente fallimentare.